Alcuni momenti prima Ai piedi del monte Natagumo Ah ecco, stavo ben dicendo che fine ha fatto Zenitsu Lasciato lì solo come un cane Sì Ebbè? Ebbè? Evo subito via! Ebbè? Non ci ha pensato due volte. Ora. Ehi, adesso c'è il pezzo con Zenitsu. Non aspettavo altro signore. Ebbè? Non ci vediamo anche Tanjiro! Ebbè? 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 Nezuko! Tanjiro! E va bene. Anche lui va due all'ora, mi raccomando, perché qui correre è troppo. Ebbè? È anche degenerati. Ebbèlo ancora? Ebbè? Ebbè? Conna? ộc gu Rosieodus che facciare? no Nihil! Nooo! Ci sono preparati 3! Mi sono! Ma non c'è? Non c'è? Non c'è? Non c'è? Non c'è? 5! 5! 70.000! Non c'è? Non c'è! 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 Nihil Congress! C'è un gros don! No c'è! C'è un gros don! E' un po' di più che senti davvero male! E' un po' di più che vivi sempre, ma... E' un po' di più! Che bellissimo! Sì ...dai da Akem! ...Ni...Ni...Ni...Ni...Ni...Ni...Ni...Ni...Ni...Ni...Ni... ...e simile un infarto. ...e chi...segno sta... Sì, non è vero? Non, non è vero? Non è vero che sembrava, ma... ...è vero? ... E... ... C'è un pozzo! ... È vero! ... Mamma che succederebbe... ... ... ... ... ... ... ... ... E' un'escritto che mi fa sentire. Mi ha risposto che mi fa sentire. Mi ha molto buono. D'escritto, D'escritto, D'escritto più grande! Mi, non ti senti per me, non ti senti. Tu non ti stai già a perdere! Niente che ne ti faccia! Sei che tu non sei! Ti senti un po' di mano! E? 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 Cosa cosa? E? Cosa stai? Cosa stai? E? Tu anche sei un uomo. Ahahahahha! Perfetto. Perfetto. Prima di una scena e una malattia. Ahahahahha! Poi, una malattia e una malattia. Poi, un pollo che si tratta, la mia corpo si tratta, e si tratta. E quando si rascita... Ahahahahha! Ahahahah! 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 Nani stai facendo? Uruzzé! Uruzzé! Non è vero! Se il corpo si tratta, il corpo si tratta, il corpo si tratta. Ah, quindi è vero che è vero! È vero! Non 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 è vero! Il Gran Maestro, vediamo se lo facciamo vedere. Eccolo qua! Fantastico! Non è vero! Non è vero! ... Grazie Che cosa è vero? Non è proprio... Non è proprio... ... No è proprio... ... No è proprio... ... Sissi? Che cosa non è così! Non è un ucciso che i nostri una dottori che i nostri un ucciso... Non lo so, non lo so, non lo so. Che cosa vuoi? E invece. Tu ti credi. Tu ti credi che i giorni di essere morto per il tempo. Tu ti potresti risolvere. Che cosa vuoi? Mi ha cambiato la sensazione prima. è cambiata Sì 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 Sì